ariete il buongiorno non si vede dal mattino appena sveglio lo scontro con il partner sarà inevitabile soprattutto per chi vive sotto lo stesso tetto toro ora che sei adulto tutto sembra più complesso oggi imparerai che ti basta poco per rendere felice il partner gemelli la stanchezza non manca ma mercurio ti conferisce oggi più che mai intelligenza brillante ed empatia relazionale fuori dal comune cancro all'apparenza oggi tutto andrà benone in realtà stai seminando non poco scontento intorno a te urano accentua il tuo individualismo leone non sarà caro leone che a furia di proteggere il tuo territorio non starai tarpando un po troppo le ali del tuo partner che invece vuole spiccare il volo vergine prenditi cura di te di quello che fai di quello che mangi unica nota positiva un partner premuroso bilancia ottima giornata lavorativa ottime relazioni e una serata organizzata a sorpresa in cui forse avrai anche un ottimo incontro e poi chissà scorpione questa giornata avrà una marcia in più venere per te si conferma pianeta dai poteri magici sagittario amore non pervenuto oggi non ci pensi e non vuoi sentirne parlare forse c'è un malessere profondo che sarebbe ora di affrontare e risolvere capricorno sei un po malandato ma tutto sommato rimanere a casa non ti dispiace soprattutto se c'è qualcuno che in modo amorevole si prenderà cura di te acquario se stavi pensando di rimetterti in gioco di cambiare lavoro di tentare nuove avventure oggi potrebbe essere il momento giusto per questa decisione pesci la profonda delusione dettata dal comportamento di un amico storico metterà a nudo tutta la tua sensibilità ritroverai il sorriso